Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei Frati Migliori Cappuccini, alle nostre spalle la chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui per raccontarvi la storia di Isabella, una donna di Terni che racconta questa storia ricca di fede, in particolar modo un miracolo particolare, sin dagli anni 93-94 sente un legame profondo con Padre Pio, pur non avendolo mai conosciuto. Ogni occasione è buona per lei per partire in pellegrinaggio verso San Giovanni Rotondo, spinta da una devozione sincera, non so come spiegarlo, racconta, ma ogni volta che posso parto per San Giovanni Rotondo e per ritagliarmi un momento con Padre Pio, incontrarlo. Luglio 2019, Isabella decide di partire ancora una volta per San Giovanni Rotondo, nonostante un impegno improrogabile la obblighi ad essere a casa la mattina del 15 di luglio. Parte in auto, da sola, a bordo racconta della sua fidata panda. Il pellegrinaggio si svolge senza intoppi, ma la notte tra il 14 e il 15 luglio le riserva un'esperienza inquietante. Si sveglia di soprassalto alle 3 del mattino dopo aver fatto un incubo, sogna di essere in un giardino con una vicina, quando un'auto arriva a tutta velocità proprio su di loro. Miracolosamente l'auto non le colpisce, ma il guidatore le rivolge una minaccia. Ci rivedremo presto. Isabella si sveglia da questo sogno, da questo incubo, spaventata, dicendo a voce alta non credo, decide allora di anticipare la partenza per Pescara, dove intende partecipare alla messa celebrata da Padre Guglielmo Limonte, anche lui figlio spirituale di Padre Pio, la chiesa dei Sette Dolori di Pescara. La celebrazione è carica di spiritualità. Isabella riceve anche una benedizione personale proprio da Padre Guglielmo. Riparte felice, il sogno ormai è dimenticato, ma mentre percorre l'autostrada verso casa la stanchezza si fa sentire, gli occhi si chiudono e prima di potersi fermare si addormenta al volante. All'improvviso un violento impatto la sveglia, l'auto che sbatte contro la parete della galleria. Lei racconta, mi svegliò un urto violentissimo, lato guida ricorda. Istintivamente riprende il controllo del volante mentre la macchina sbandava a destra e a sinistra. La sua testa oscilla, ma non urta mai il finestrino. Sono momenti concitati, ma Isabella riesce ad uscire dalla galleria. Miracolosamente trova un'area di sosta dove si ferma tremante. Grazie, padre Pio, esclama. Quando esce dall'auto per vedere i danni, si accorge che lo specchietto laterale sinistro è stato tranciato. La fiancata dell'auto è gravemente danneggiata, ma lei è illesa, senza un graffio. Si ferma da un carrozziere a Rieti, il quale senza neanche ascoltare la sua storia, le dice che lei è stata veramente miracolata. Isabella risponde convinta, sì, da padre Pio. Ripensando a quel sogno, all'incidente, capisce che la minaccia del sogno si è trasformata in salvezza grazie proprio all'intercessione di padre Pio. Da quel giorno Isabella non smette di recarsi a San Giovanni Rotondo proprio per ringraziare padre Pio. Mi ha salvato la vita, è sempre con me e non mi lascia mai sola. Grazie.